Salve ragazzi, benvenuti al nuovo video di Nathan Drake 95 quest'oggi vi presento un gioco diverso dal solito cioè Crash Bandicoot 3 nel quale ho raggiunto il 105% con 25 cristalli 45 gemme 30 reliquie, 25 d'oro e 5 di platino è stato molto carino è stato molto carino 40 g 50 g 15 g 50 g 60 g 60 g 80 g 60 g 60 g